A tutti buonasera, la giornata di domani vedrà tempo soleggiato e limpido salvo nubi compatte sui versanti settentrionali delle Alpi e lungo il confine, vento da nord forte sui rilievi e qualche raffica localmente fino in pianura. Le temperature minime da meno 1 a 5 gradi mentre le massime attese da 10 a 14 gradi.